Quali sono i motivi di questo sit-in questa mattina sotto alla sede dell'assessorato regionale della sanità di Pescara? Allora noi chiediamo a gran voce la stabilizzazione perché ci hanno estromesso completamente dalla stabilizzazione avendo già maturato chi prima, chi dopo i 18 mesi, ci hanno chiamato per un paio di mesi con un contratto di collaborazione ma in realtà noi siamo dipendenti a tutti gli effetti dell'ASL ma non abbiamo diritti né malattie né ferie non ci viene retribuito nulla se non le ore lavorative che ci vengono tassate più del dovuto e quindi chiediamo la stabilizzazione che questi 18 mesi valgano anche come punteggi quindi a pari dell'avviso pubblico perché noi prima eravamo gli eroi di questa emergenza poi dopo non serviamo più e ci hanno tirato fuori senza una spiegazione e non è giusto quindi noi ci chiediamo la stabilizzazione con tutti i diritti del caso Quanti siete interessati da questa avvertenza? Allora noi ne siamo 22 che lavoriamo con l'emergenza Covid infatti molti dei miei colleghi hanno contratto il Covid e non gli è stato nemmeno retribuito Ci sono gli strumenti legislativi e normativi, sono stati adottati da altre regioni ad esempio degli avvisi con clausole di salvaguardia per coloro che hanno già lavorato premialità aggiuntive per coloro che hanno già lavorato Si può fare se si vuole fare, sicuramente non accetteremo e loro non accetteranno le promesse perché sono stanchi di promesse Tra l'altro al danno alla beffa loro hanno anche subito che quando si sono ammalati hanno chiesto poi all'Inps il pagamento della malattia e pare che la Las non abbia trasmesso la loro malattia all'Inps questa è veramente la beffa, questo è troppo non si può sopportare una cosa del genere Grazie